Ciao belle, scusate se faccio questo video è sempre già truccata ma non è un video appunto per il trucco comunque ve lo faccio vedere, faccio vedere i prodotti che avevo adoperato ho messo sulle labbra quella della nuova collezione della Kiko questi abbinati alla loro magliettina ho messo il numero 03 poi negli occhi ho messo invece la della Too Faced il Tiger Ace e poi con un pennellino da sfumatura ho tamponato leggermente il colore Jungle Love poi ho messo sul mascara e ho provato questo non ho... vi avevo detto che avevo comprato alcuni prodotti il Wonderful, non so se sia... Waterproof non lo so Extreme, quindi penso di sì della Rimmel questo e mi hanno dato anche comprandolo c'era il regalo in omaggio diciamo questo eh... sì questi non vi avevo fatti vedere mi sa che non vi avevo fatto vedere neanche una... sembro minacciosa col dito così un... non mi raccontano le parole uno smalto se lo trovo vero povero no ma Daniele perché non ti prepari la cosa prima? scusate forse l'ho messo... ecco... non l'ero anche preparato scusate la mia testa ormai niente eh... questo della Pupa è molto carino Velvet Matte oh oddio non l'ho ancora provato perché adesso ho messo questi eh... fatemi sapere se vi piacciono oh no non volevo fare un gestaccio scusate anche perché non è solito un mio fare gesti comunque questo dito diciamo scusate pessima figura e... e niente vi volevo far vedere eh... siccome mio marito mi fa i regali pre natalizi perché io devo recuperare i natali che l'hanno fatto e anche questo vi spiegherò in un secondo momento perché ho iniziato a festeggiare i compleanni a 28 anni con lui oh ma il testo è terribile allora eh... la mia amica Sara eh... che ho conosciuto eh... tempo fa un paio di anni fa eh... la ragazza appunto del... il mondo di Sac Strega eh... che trovate su Facebook comunque ve lo lascio iscritto e il mio marito appunto mi fa i regali pre natalizi vi faccio vedere un po' wonderful come il mascara oddio aspettate la girata guardate c'è pure il gofetto guardate io non so come caspita faccia ha le mani d'oro e anche gli occhi d'oro perché... cioè guardate è un amore è un amore le vende dappertutto quindi potete contattarla benissimo si chiama su Facebook Sara Pagliero ho il... direttamente sulla sua pagina il mondo di Sac Strega poi vi faccio vedere anche il vestito che mi ha regalato mio marito questo ecco i cuoricini è di Molly Bracket ho trovato qua è la marca che andrò su Zalando però io l'ho trovata qua a Cagliari a Lausciam delle... di Cagliari non in quella di Piero e Roma e poi ho anche... ovviamente vedete sono tutti i cuoricini che io sono pazza per i cuoricini e la cinta invece è di... oddio di chi è? ecco i cuoricini la vedete? è Tosca Blu è di Tosca Blu ok niente poi non metto niente nelle orecchie perché se ho la collana non mi piace essere solo sembrava Madame Bijou troppo cosa ho avvelcorato quella del film del Titanic dove c'è la scena che lui fa vedere a lei i suoi disegni i suoi ritratti e c'era quella donna che usciva con tutti i suoi gioielli ecco siccome non sono Madame Bijou e non mi piace esserlo neanche e quindi niente ora invece stiamo per uscire con mio marito oggi è il nostro anniversario sesto e scusatemi se ho diviso il video perché io sono molto imbranata quindi sarò diviso in due parti il video che sarà caricato oggi uno è già caricato ed è la prima parte la seconda parte l'ho messa a caricare sapete che Youtube ci mette un casino quindi comunque il nostro anniversario il nostro anniversario è il 6 di gennaio se ho bepana il 6 di dicembre che è oggi però questo video sicuramente sarà caricato domani perché anche perché sennò vi arrivano mille notifiche e poi vi bloccate e non mi sembra giusto stavo dicendo missione MAC perché qui in Sardegna la MAC non c'era allora noi abbiamo Briatore che si fa tutta la zona nord della Sardegna vabbè non ne parliamo la mia isola non si tocca la nostra isola non si tocca perché è già bella di natura la Sardegna chi di voi ha avuto l'opportunità di venire se non l'avete ancora fatto venite sono soldi spesi bene e niente quindi manca un negozio MAC fanno tutte queste cose comunque vabbè a livele è a Quartuccio Quartuccio? sì Qua no Qua Quarto scusate Quarto Quartuccio scusate non mi ricordo con le vie con le cose non mi ricordo hanno aperto un franchising MAC insomma un monomarca e quindi la notizia ovviamente me l'ha data Alessandra da Parigi me l'ha data per quarto cioè prendetevi conto vabbè e quindi andiamo lì farò un vlog se ce la faccio e spero che mio marito mi regali qualcosa ma ne sono sicura che qualcosa me la regala perché è l'anniversario parlo sottovoce perché lui era sotto la doccia però adesso è finito quindi sicuramente vi sente ok mi raccomando il mondo il mondo di sac strega Sara Pagliero facebook ok poi c'è anche su instagram comunque poi vi faccio vedere anche le altre cose che ho acquistato perché ho acquistato una marea e ne acquisterò anche altre ok ciao belle a dopo ciao a tutti ciao a tutti